Con Emanuele Vignali, direttore sanitario della Casa Madre Teresa di Calcutta e parliamo di Alzheimer, una malattia, una patologia in costante crescita e quant'è importante l'assistenza ai familiari di questi pazienti, a chi se ne occupa? La malattia di Alzheimer come le demenze sono delle malattie croniche, evolutive, che vuol dire che nel tempo continuano, cambiano, peggiorano e quindi anche le persone che si prendono cura di loro devono continuamente riadattarsi a una situazione che è continuamente mutevole. Si dice che la malattia di Alzheimer non coinvolga solo il malato, ma coinvolga tutto il nucleo familiare in cui il malato è inserito e questo è profondamente vero. Per cui quando si prende carico della persona con demenza è inevitabile, è necessario prendersi cura di tutte le persone che di essa si fanno carico, in particolare di quello che viene chiamato il caregiver principale, la persona che più direttamente ha a che fare e assiste il malato. Il centro di ascolto Alzheimer è nato ancora nel 2009 e continua a funzionare proprio per questo scopo, quello di dare formazione e informazione alle persone che si prendono cura dei malati di demenza e inoltre di dare loro un sostegno di tipo psicologico. Fa questo con una serie di iniziative sul campo formativo, corsi, seminari, percorsi di formazione più approfondita e anche sull'altro piano, sull'altro versante, colloqui psicologici, gruppi di autoaiuto e gruppi psicoeducazionali che mettono insieme l'aspetto formativo e informativo con l'aspetto di supporto psicologico.